un cordiale saluto agli ascoltatori di cittagoradio nell'edizione di martedì 22 luglio parliamo di movida san salvario della riapertura delle attività ricreative ai murazzi di mario virano incontrato dalla commissione legalità del comune e del conflitto tra amas e israele movida un'ordinanza sperimentale per conciliare il diritto dei residenti di san salvario al riposo degli imprenditori a gestire la propria attività e dei clienti allo svago entrerà in vigore fino al 30 novembre e questo è il provvedimento che la città ha studiato per la gestione della movida e che prevede la chiusura dei locali che non operano nella somministrazione di alimenti e bevande alle ore 24 mentre gli altri sospenderanno l'attività nei dehors alle 2 e all'interno del locale alle 3 l'ordinanza è stato oggetto di dibattito in sala rossa dibattito che si è concentrato anche su due emozioni la prima del movimento 5 stelle chiede alla giunta di sperimentare la ztl notturna in un'area di san salvario la seconda proposta da fratelli d'italia chiede che si individuino nuovi luoghi della movida per decongestionare san salvario e rivitalizzare le periferie è stata in murazzi dal 22 luglio è disponibile il nuovo spazio dei murazzi ottenuto dall'associazione arci e aix grazie a un progetto che si occuperà di riqualificarne l'area sull'astrecato un tempo calpestato dalla movida è stata creata una spiaggia con annessi campi da beach volley e beach socher dove i cittadini torinesi potranno passare i pomeriggi le serate di quest'estate le associazioni promotrici dell'iniziativa contribuiranno a rendere piacevoli i momenti grazie a numerose attività organizzate soprattutto per i più giovani alta velocità e mafia un'opportunità per fare il punto su un tema molto sensibile in un contesto di persone che hanno dimostrato grande attenzione grande sensibilità alle questioni della legalità negli appalti delle grandi opere così mario virano ha introdotto il suo intervento di fronte alla commissione legalità del consiglio comunale di torino preseduta da fosca nomis virano presiede l'osservatorio per il collegamento ferroviario torino lione l'invito davanti alla commissione consigliare è stato fatto anche alla luce di quanto emerso recentemente dall'inchiesta denominata san michele che ha evidenziato infiltrazioni malavitose in un subappalto del cantiere italiano dopo aver illustrato le procedure adottate nella selezione delle imprese nella giudicazione degli appalti nel controllo delle presenze di uomini e mezzi nei cantieri e nel controllo dei flussi finanziari virano ha fornito i dati aggiornati a luglio 2014 dell'attività di vigilanza e indagine svolta dal gruppo interforze delle 298 società sottoposte a monitoraggi preventivi 10 sono state segnalate alla prefettura gli accertamenti approfonditi invece a carico di imprese aggiudicatari e di appalti subappalti e subcontratti sono stati 456 988 quelli su imprese e società collegate alle prime questi accertamenti hanno generato in tutto 87 segnalazioni alla prefettura conflitto amass israele il consiglio comunale di torino ha provato un ordine del giorno con il quale si chiede che di fronte al drammatico aggravarsi del conflitto amass israele che sta determinando una vera emergenza umanitaria nella striscia di gaza nonché rischi per l'incolumità di cittadini residenti in municipalità israeliane tutte le parti in conflitto accettino una tregua al fine di evitare un ulteriore escalation militare in particolare in tutte le aree abitate l'ordine del giorno che vedeva come prima firmatari i consiglieri la ganga e curto è stato approvato con 26 voti a favore e tre astenuti l'edizione di oggi è stata redatta da federico d'agostino silvio lavalle alessandro poma direttore remo guerra